Rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale, in particolare in prossimità degli attraversamenti pedonali e ripristino del tratto di illuminazione mancante. Questa la sintesi dell'incontro in prefettura Potenza sulla messa in sicurezza dell'area industriale di Melfi, a 20 giorni dalla morte dell'operaia Rossella Mastromartino, investita dopo la fine del turno di lavoro. I risultati del sopralluogo della polizia stradale effettuato la scorsa settimana hanno evidenziato come la metà dei 3 chilometri e 400 metri di strada coinvolta siano privi di illuminazione. L'amministrazione comunale di Melfi ha installato in via temporanea 8 fari nei punti più critici, ma gli interventi definitivi saranno finanziati dalla Regione. Con degli stanziamenti ad hoc per poter migliorare questo processo sicuramente renderemo queste aree fruibili da parte di tutti. Ai lavori contribuiranno anche il consorzio ASI in liquidazione, responsabile dell'area che ha promesso una manutenzione transitoria in attesa dello stanziamento dei fondi regionali. Fondi che serviranno non soltanto per l'illuminazione e rifacimento stradale, ma anche per il taglio della vegetazione, il posizionamento di dispositivi elettroriflettenti e la sostituzione della cabina elettrica attualmente sotto sequestro. Quella di Melfi è un'area importante, strategica, perché è il territorio della provincia di Potenza e quindi è giusto e necessario e corretto che ci occupiamo oggi di questo. Presenti all'incontro anche Inail e Denel, oltre ai segretari regionali di CGL Cislewil, che da anni ormai chiedono un intervento su quel tratto di strada.